Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione è un caso interessante perché vedrai tanti sintomi, tanti segni voglio dire, ma non riuscirai a cogliere qual è la causa di questa gravissima idrope che determina un vistosissimo idrotorace, che determina una vistosissima scite con un cuore perfettamente normale, con un'anatomia cerebrale perfettamente regolare, con un collo perfettamente regolare, con un profilo perfettamente regolare. Con degli arti che sono regolari e che mostrano regolare reattività e con una parete addominale che è sottile, a configurare una sindrome di prune belli senza che ci sia quello che di abitudine si osserva, cioè una mega vescica, un mega uretere. perché vedrai che l'apparato urinario è normale e non ci riusciamo a spiegare il perché di un idrotorace così grave, di un'ascita così grave, con strutture anatomiche regolari. C'è in vero, e lo vedrai, mentre scorrono le immagini di questa perfetta anatomia cerebrale in cui vedi anche le velocità che sono normali sulla orte polmonare, ti stavo dicendo, vedrai un'iperplacentosa e vedrai una placenta ricca piena di puntini lucenti come si osservano talvolta nelle infezioni, ma i parametri infettivologici risultavano normali, quelli comunemente utilizzati ed anche uno studio della cerebrale media escludeva un fatto anemico e d'altronde l'edema era, non c'era. E d'altronde una situazione legata ad una alterazione renale non c'era. I reni apparivano nella norma. La vescica appariva regolare, il liquido appariva regolare, l'intestino che stai vedendo adesso appariva regolare, il fegato che hai visto per pochi minuti, pochi nodinale e poi li vedrai anche in trasversale. E quindi che cosa si fa in questi casi? Si richiede ovviamente un riesame di tutti i fattori infettivologici andando a vedere anche i più rari. Si richiede comunque uno studio, un cariotipo molecolare. Tu vedi che non c'era una situazione di ipossia perché il dotto venoso era normale, perché vedrai che l'arteria umbilicale era normale, perché vedrai che la cerebrale era regolare. E quindi il brancolare nel buio non vuol dire eseguire un esame inesatto, vuol dire dare l'opportunità al clinico, al genetista, di avere tutte le informazioni e visto che abbiamo fatto anche uno studio del rapporto polmonare a orta, andare a vedere dei segni particolari come potrebbe essere un'arteria umbilicale singola che categoricamente non ci sono, andare a valutare che la velocità sulla polmonare sia normale e che non ci sia una sofferenza fetale, non c'è. Andare a vedere che i piedi siano dritti, andare a vedere che non ci siano rigidità articolari e qui lo stai vedendo molto bene e quindi eseguire e descrivere quello che uno ha visto, l'iperplacentosi, la mancanza di edema, sia in qualunque struttura un'anatomia normale visto poco fa anche le mani che apparivano regolari, ma vedi l'iperplacentosi, l'hai notata adesso, andiamo a vedere la bocca era normale, il cervello era normale, la morfologia della testa era normale, non ci stava una brachicefalia, quindi una situazione drammatica perché quell'idrotorace era gravissimo, quella scita era gravissima senza che sia potuta riscontrare una causa e quindi in questi casi consulenza infettivologica, consulenza genetica, studio del cariotipo, controllo a breve distanza e rendere dotta alla paziente di tutto ciò che è stato fatto e di tutto ciò che può essere fatto, ma che le patologie sono migliaia e migliaia e non sempre si riesce né in utero né dopo la nascita, anche sul prodotto abortivo a trovarne una causa. Ovviamente farai il test di Cumbus, ovviamente farai tutte le indagini che devi fare, qui stai vedendo che si esclude un'anemia perché abbiamo una velocità normale di 123-24 cm al secondo, lì dove un'anemia ci aspettavamo almeno 35-40 cm al secondo. Stanno presentandosi tutte le ultime indagini in cui ti faccio vedere di nuovo la grossa idrotorace che c'è bilaterale, l'assenza di effusione pericardica che ci sta che quindi ci dice che non c'è uno scompenso cardiaco, cosa peraltro validata anche dall'ecocardiografia, il fegato che appare abbastanza regolare, si può discutere che ci sono dei piccoli spotti per ecogeni nel fegato, ma niente di particolare, l'ascita è notevolissima, le ansi intestinali regolari. E quindi questo breve riepilogo ti è utile per farti vedere come deve essere fatto uno studio attento, come devono essere viste tutti gli organi, come deve essere visto che non ci sia rigidità articolare. Qui tu stai vedendo la vescica che è perfettamente regolare, ti ho parlato prima della sindrome di pruni belli e come non c'era edema al sottoputo. Io ti ringrazio dell'attenzione, stanno scorrendo le ultime immagini e ti ribadisco la necessità di diverse consulenze, grazie dell'attenzione. non c'è polidramnios, prima hai visto l'iperplacentosi e questo è il profilo perfetto, regolare, con un regolare naso. Grazie a tutti.